Una passione in comune è un sogno da realizzare, e parte tra emozioni e speranze la settima edizione del Festival Una Voce per lo Ionio. Oltre 40 concorrenti da tutto il sud Italia a contendersi la vittoria finale. Ma chi sono e cosa sognano? Conosciamoli insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Sofia Piccolo, ho 16 anni e vengo da Seminale in provincia di Reggio Calabria. Canto Titanium perché penso sia una novità, in quanto è una canzone nuova e estiva. Partecipo per la seconda volta e sono contenta di essere ritornata qua, perché penso che sia una buona vetrina e soprattutto puoi fare molta conoscenza con altre persone, infatti già ho fatto amicizia. E soprattutto sono buoni i giudici che partecipano. ... I'm bulletproof, nothing to lose Fight away, you fight away Rinker said, you take your aim Fight away, you fight away Shoot me down, but I won't fall I'm tutorial Shoot me down, but I won't fall I'm tutorial Hey, musica sarà Hey, musica sarà Una musica sarà